A settembre si tornerà in classe ma con regole precise. La regione ha anticipato le linee guida che dovrebbero regolare la vita nelle scuole con il nuovo anno scolastico. Sostanzialmente prevedono i varchi e l'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, a misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno all'elementario o a qualcun altro che è in età scolastica nella scuola dell'obbligo e anche agli operatori. Dopodiché la mascherina la si porta fino all'arrivo al banco. Il banco avrà, a ogni bambino, a ogni studente, scusatemi, deve essere garantito uno spazio vitale di due metri quadrati. Quindi ci sarà un distanziamento tra i banchi, non saranno più attaccati come prima. La distanza dall'insegnante che insegna deve essere almeno di due metri. La mascherina non la si porta durante le lezioni. Qua avete poi tutte le casistiche. La si indossa solo per uscire, che sono andare al bagno, uscire di classe o dall'aula o per gli spostamenti. Per la ricreazione spunta l'opzione della pausa al banco, specie nelle giornate in cui non si può stare in cortile. Sulla ricreazione c'è l'opzione per evitare l'assembramento di farla in loco, cioè fare il riposo per quanto possibile. Io penso che i bimbi, penso che gli elementari, hanno anche il diritto di correre, di fare un po' gli scalmanati durante la ricreazione. Una delle alternative è quella, eventualmente, potremmo il giorno di pioggia, non li puoi tenere nei corridoi perché altrimenti abbiamo fuori una calca dentro nel corridoi della scuola. Quindi resteranno al banco, insomma, si organizzeranno. Tutto questo in un quadro che segna un netto miglioramento nel numero di positivi rispetto al picco dell'emergenza. Nel bellunese sono attualmente 43 su un totale di circa 1200 positività certificate.